L'assistenza, associato Atagas. L'azienda è centro assistenza tecnica per caldaie e scaldacqua a gas, rubinetterie e saune per Trieste e provincia. L'azienda esegue assistenza diretta per numerose aziende, quali Baxi, Ocean Idroclima, Cosmogas, Silber, Idealclima, Ioannes Radiant per il settore caldaie, Grue e Frederic Grue per le rubinetterie, FGB per saune e bagni di vapore. L'azienda si trova in viatesa 8, Trieste.